e bene oggi andiamo a fare un'altra puntata del cripto news andando a guardare un po di notizie abbastanza interessanti e curiose per quanto riguarda il mondo delle cripto lute come al solito ma prima di cominciare vi chiedo sempre di lasciare un like a me sarebbe tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentare qui sotto un qualsiasi domanda dubbio curiosità di andare a scrivere il mio canale e attivare la campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare partiamo subito con una notizia curiosa ossia un utente di reddit ha inserito 100 dollari in bitcoin in una lettera che verrà aperta tra 100 anni praticamente cosa ha fatto ha scritto all'interno della lettera le chiavi private e l'indirizzo dove si trovano i 100 dollari in bitcoin che sono pari a 0.003 btc che ad oggi sono una cifra irrisoria comunque 100 dollari facilissimo poterli trovare però abbiamo un qualcosa da dover tenere presente ossia il fatto che il 2022 è 0.03 btc ma nel 2.122 il block rewards che sarebbe la quantità di criptovaluta coniata ogni volta che viene viene confermato il blocco da i miner grazie alla proof of work sarà di 0.00 quindi 19 satoshi un qualcosa di molto molto più basso rispetto al quantitativo ad oggi acquistabile addirittura 0.019 satoshi è quasi impossibile su ogni exchange acquistarlo questo perché non perché non si possono acquistare queste piccole quantità ma perché c'è un minimo di transazione e il minimo di transazione è di 10 dollari e se 100 dollari sono 0.003 e 10 dollari sono pari a 10 volte di meno quindi praticamente non arriviamo per niente a questo quantitativo e la cosa ancora più curiosa è il fatto che ad oggi 0.003 saranno 15.000 volte maggiori rispetto al block reward quindi questo quantitativo ed è come se ad oggi noi trovassimo 97.000 bitcoin scritti su un pezzo di carta rispetto al block rewards che c'è ad oggi quindi andando a fare 6,25 per 15.000 uscirà all'incirca il 97.000 bitcoin logicamente stiamo parlando sempre di paragoni ma questo per farvi capire qual è l'effettivo utilità di questo esperimento e ha scritto all'interno di questa lettera logicamente questa lettera è stata data in data a una biblioteca che ha proprio aperto questo servizio ed è stata data questa diciamo direttiva ossia di consegnare il quantitativo di bitcoin a qualsiasi suo familiare ancora vivente e 0.003 bitcoin ipoteticamente se il mercato dovesse continuare ad andare nella direzione in cui va dovrebbero essere veramente veramente tanti un'altra cosa da tenere d'occhio è il fatto che nel 2140 dovrebbe esserci l'ultima l'ultimo blocco da poter confermare poi logicamente tutti i miner continueranno a guadagnare ma non ci sarà più questa necessità dal mio punto di vista ma continueranno a guadagnare tramite logicamente il pagamento delle fees che verrà effettuato tramite le transazioni sulla block chain passiamo di notizia e vediamo che bitfinex è riuscita a recuperare i 200 nel bitcoin i fondi rubati in bitcoin del 2016 una cosa però da tenere sott'occhio è il fatto che al tempo bitcoin valeva un determinato quantitativo di dollari e bitfinex per andare a ripagare gli utenti che avevano subito il furto che avevano subito il danno era andata a ripagarli con il token leo sappiamo bene che il token leo è un token che viene utilizzato all'interno di questa piattaforma andando a pagare 76 milioni di dollari in controvalore ad oggi invece i bitcoin recuperati che sono 119 mila bitcoin sono stati recuperati e hanno un controvalore di 3.6 miliardi di dollari quindi sembra come se fosse stato l'affare migliore del secolo perché è stato pagato un corrispettivo al momento insomma del furto di 79 milioni ma in realtà loro hanno recuperato 3.6 miliardi di dollari poi è logico che chi aveva al tempo i token leo magari si è ricomprato i propri bitcoin o magari quelli che hanno ricevuto i token leo li hanno venduti insomma hanno liquidato le posizioni poi è logico che ognuno ha fatto la propria scelta ma da dove sono stati recuperati questi fondi beh da una transazione che è stata seguita dalle forze di giustizia dal dipartimento di giustizia degli stati uniti che ha seguito la transazione dal wallet nel quale erano stati depositati questi bitcoin fino al wallet di ricezione e dove sono stati poi prelevati e questi due persone queste due entità che sono stati insomma beccate ecco erano anche delle persone abbastanza note tra cui tra parentesi uno dei due una cosa veramente assurda lo dice pompiliano uno dei due hacker di beat phoenix è un utente verificato su twitter e ha scritto articoli per forbes cioè è una cosa veramente come dice lui surreale ossia una persona che addirittura aveva una certa fiducia sia da parte del della community di twitter che addirittura da parte della community di forbes che comunque è un giornale molto importante addirittura era stato un hacker che aveva rubato così tanti bitcoin al tempo andiamo a guardare invece un'altra notizia ossia il governo rosso e la banca centrale concordano il bitcoin equivale a una valuta e questa è una cosa anch'essa molto interessante perché ad oggi secondo un annuncio di martedì il 18 febbraio verrà promulgato un disegno di legge redatto dal governo e dalla banca centrale russa che andrà a definire le cripto valute come equivalenti alle valute il che porta praticamente a effettuare logicamente transazioni in valuta e quindi a pagare delle tasse in quella direzione ma c'è anche una cosa interessante da tenere presente ossia il fatto che ad oggi è una bufala che sono vietate le transazioni e il mining delle cripto valute è soltanto una proposta che era stata fatta al tempo ma con questo disegno di legge logicamente cadrà tutto quello che si era messo diciamo in piedi al tempo quindi i divieti sul mining di cripto nel all'interno della della russia a quanto pare sono svaniti diciamo per fortuna per tutto il mondo non so se poi è una fortuna anche per loro io credo di sì poi andiamo a guardare questa nostra quest'altra notizia una delle primissime anzi la primissima mining pool di bitcoin ad oggi ha estratto 1,3 milioni di btc ed è un qualcosa di abbastanza interessante perché perché bitcoin era nato come un diciamo gioco e proposta ma ad oggi dopo 12 anni ormai avere ancora un'azienda che per prima aveva costruito questa ipotesi di creare un'azienda insomma basata proprio sul bitcoin quindi sul mining di bitcoin era un qualcosa di molto azzardato una super startup un qualcosa che magari sarebbe potuto accorrare da un giorno all'altro o diventare quello che è diventato ad oggi è vedere un'azienda del genere essere riuscita a minare 1,3 milioni di bitcoin che al controvalore d'oggi stiamo parlando di un prezzo spropositato ragazzi se un 1,3 milioni per mi pare 37 mila dollari euro facciamo in euro si facciamo in euro ad oggi sono 48 questi sono migliaia milioni 48 miliardi e 100 milioni di euro quindi stiamo parlando di un qualcosa di molto grosso questa azienda ha una quotazione logicamente non è un'azienda che è quotata in borsa ma ha una valore veramente inestimabile infatti poi ci sono i disegni delle galline sedute sulle uova d'oro ed ecco in effetti è proprio così altra notizia entro fine anno intel entrerà nel settore crypto con l'asic dedicato al mining di bitcoin cosa hanno intenzione di creare hanno intenzione di creare degli acceleratori che possano minare mille volte in maniera più performante utilizzando lo stesso vattaggio delle gpu che ad oggi sono in commercio ad oggi sappiamo bene che il mercato è gestito da invidia e amd per quanto riguarda ethereum e da diciamo pochissime aziende tra cui bitmain se non sbaglio se non ho detto una stupidaggine che va a creare insomma le macchine asic che vanno a minare proprio gli ant miner quindi bitcoin è avere un'azienda come intel che inizia a produrre hardware anche se comunque rimane sempre il punto interrogativo sul dove troveranno i processori che servono per creare queste gpu quindi comunque il prezzo aumenterà e quant'altro però intanto avere un'azienda del genere che si butta all'interno di questo mercato è veramente un qualcosa di molto particolare perché abbiamo ancora una volta la conferma che tutto ciò non è soltanto una bolla speculativa ma è un qualcosa che sta prendendo piede e continuerà a rimanere all'interno del mondo ecosistema del mercato delle cripto e del mondo in generale a livello economico ultima notiziola youtube vede un incredibile potenziale nei video nft nonostante l'opinione pubblica contraria allora youtube ve la faccio breve vuole nel entro fine anno riuscire a proporre il web punto 3 il una block chain gli nft e il metaverso all'interno di youtube ma come andrà a implementare tutto ciò beh allora la block chain logicamente andrà a dare probabilmente poi dobbiamo sempre vedere quanto e hanno voglia di creare perché degli annunci o delle insomma delle proposte sono diverse poi dai fatti reali o una block chain per youtube servirebbe più che altro per avere una un so un social che è scollegato da comunque la diciamo la centralizzazione poi bisogna vedere come andrà a essere gestito la block chain dopodiché avere un nft che va a diciamo interfacciarsi con un video dà la possibilità di andare ad essere venduto il video in sé per sé o comunque ad essere scambiato in maniera un po più veloce basato sempre sulla block chain tra gli utenti che vogliono logicamente contribuire con al guadagno del creator e quindi del canale e ultima cosa il metaverso ad oggi è una proposta presa in considerazione principalmente per il gaming e vogliono andare a creare un metaverso che possa andare a diciamo portare il fan all'interno di questo metaverso per renderlo più partecipe delle partite di gaming e in generale comunque del dei giochi che vanno a guardare sono proposte molto interessanti comunque stanno collaborando con aziende abbastanza grosse ma è vero anche che arrivare da qui ad essere realmente poi dei fautori di nuove piattaforme di questo calibro comunque già esistono tipo odyssey piattaforme basate su block chain con video ma se dovessero realmente riuscire a portare una cosa del genere all'interno di un social network di questo calibro insomma avremmo una strada spianata proprio sull'adozione di massa del mercato cripto proprio perché sappiamo benissimo che ad oggi andare ad implementare un qualcosa del genere all'interno di un social network così tanto presente e importante come youtube diverrebbe sicuramente un trampolino di lancio per il mercato stesso con questa notizia io chiudo vi ringrazio come al solito per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace commentare qui sotto iscrivetevi al canale attiva la campanella prima di sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare andare a visita il mio account instagram e tik tok davide vasco 85 e se volete contattarmi su telegram davide lineetta bassa vasco vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti